Ciao, sono a viaggio, da grande voglio fare il calciatore. Io da grande voglio fare un po' di giotto. Io da grande voglio diventare l'istruttore di scuola guida, per riparare le persone a guidare con prudenza. Sono Francesca, da grande voglio fare il calciatore. Ciao, sono Mattia, da grande voglio fare lo scienziato e scoprire nuove medicine. Da grande vorrei fare la dottoressa per tutti i malati del mondo, ma soprattutto per sconfiggere il covid. Io sono Giacomo, da grande voglio fare il pescatore. Ciao, sono Ginevra, da grande voglio fare la maestra. Da grande vorrei fare il calciatore. Io da grande vorrei fare la farrucchiera. Io da grande voglio fare il calciatore. Sono Michele, da grande vorrei fare la commessa di un negozio di abbigliamento. Ciao, sono Serena Fuso, da grande voglio fare la scienziata. Ciao a tutti, mi chiamo Martina, io da grande vorrei fare la cantante, la tenista e la pianista. Ciao! 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 Ciao, sono Diego, da grande voglio fare il pianista. Ciao! Sono Pablo, vorrei fare il calciatore e il maestro di karate.